Mezzo secolo di jazz a Pescara, il festival del capoluogo adriatico, quest'anno giunge alla cinquantesima edizione, non si è fermato neppure con la pandemia. Si terrà dal 15 giugno al 26 di luglio tra il porto turistico e il teatro d'annunzio. Pescara e il jazz festeggiano le nozze d'oro, ha commentato il sindaco Masci. È un compleanno importante, siamo alle nozze d'oro tra il festival jazz e la città di Pescara. Ella Fitzgerald quando suonò a Pescara disse che aveva suonato in uno dei posti più belli del mondo e questo ci riempie d'orgoglio perché il festival jazz che ricordiamo sempre è il festival più antico d'Italia che è nato da un'intuizione di Lucio Fumo che mi piace ricordare anche se adesso non è più in prima linea, è veramente un simbolo della nostra città, proietta la nostra città a livello internazionale, la fa apparire per quello che è una città piena di cultura, piena di divertimento, piena di musica che si presenta con la sua caratteristica solare in ogni occasione. Quest'anno sarà un festival jazz speciale perché ci sono dei protagonisti assoluti del mondo della musica. Si esibiranno jazzisti di fama internazionale ma non solo, quest'anno infatti il festival è aperto anche ad altri generi musicali, illustri i nomi in calendario dai Simple Minds ad Alex Britti, da Fiorella Mannoia a Paolo Fresu. Questa è un'edizione dedicata al rapporto tra il jazz e il mondo della canzone, infatti si chiamerà Pescara Jazz e Songs e quindi insieme alla grande tradizione del festival di presentare jazzisti internazionali, quest'anno in particolare l'attenzione sulla generazione dei cinquantenni come V.J. Ayer, Tigran Amasian e altri. Quest'anno appunto ci sarà un'attenzione verso alcuni esponenti del mondo della canzone. Alex Britti in realtà presenterà un programma dedicato alla chitarra, lui è un chitarrista blues molto bravo, è partito da lì, poi è diventato più celebre con le sue canzoni. Canterà anche alcune delle sue canzoni naturalmente, però sostanzialmente il progetto questa volta è rivolto alla chitarra blues. Fiorella Mannoia è una grande interprete internazionale che insieme a Noa chiuderà il festival.